Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con l'appuntamento consueto settimanale con Topolino in questo caso con il numero 3490, ragazzi cifra tonda, mancano 10 numeri precisi al numero 3500 quindi tra due mesi e mezzo, esattamente, potremo trovarci tra le mani quel Topolino in edizione da collezione perché comunque una numerazione così accade molto raramente negli anni ma parliamo di questo Topolino con in copertina il Topoprincipe con questa cover di Giada Perissinotto e disegni Andrea Cagolla ai colori purtroppo riciclata dall'omonimo volume edito dalla Giundi un anno fa questa è un po' una pecca perché comunque al di là della copertina che è bellissima però è stata già utilizzata si deve creare qualcosa di più inedito ma va bene così e appunto ci preannuncia che in questo Topolino c'è la prima parte della storia del Topoprincipe anche qui per me altra critica, avrei preferito tutta la storia completa anche perché non è in due parti, alla fine è stata proprio spezzata per essere pubblicata su Topolino e questa cosa non mi piace, però effettivamente non lo so, sarebbe andata a crearsi una sorta di concorrenza enorme nei confronti della versione di Giunti, non lo so comunque andiamo avanti con Chiara Tira Paperopoli, con Archimede e Paperino che parlano di svuotare il cervello e proseguiamo con il relazionale del direttore Alex Bertani, l'editoriale scusate che appunto ci preannuncia la storia del Piccolo Principe e ci annuncia anche che tra una settimana uscirà un patto tra gentiluomini ultima storia dedicata alle qualificazioni mondiali del Calisota finalmente direi e poi ci sarà anche una storia realizzata in collaborazione con l'Università del Salento e dell'amministrazione comunale della città di Castrocelo con Topolino e il tesoro del legionario di Artibani e Zironi che ci porterà alla scoperta del mondo dell'archeologia ragazzi, questa storia mi intriga parecchio perché sono appassionato di storia e archeologia e poi ci sarà anche una storia di Giorgio Cavazzano visto che ci sarà anche il compleanno del maestro e tornerà anche Paperoga e la Casa del Rumore che dovrebbe essere una storia insomma dedicata ad Halloween andiamo avanti con lo sketch della cover e iniziamo appunto con questa bella storia di Augusto Macchetto e i testi e appunto già da Perissinotto ai disegni di proposizione del classico intramontabile Il Piccolo Principe in questo caso con personaggi Disney molto preponderanti vediamo questo pipo, questo Topolino davvero disegnati benissimo vediamo proprio dalle tavole che sono ogni tavola, ogni vignetta è una piccola opera d'arte ragazzi qualcosa di bellissimo vediamo anche il ritorno di Paperetta Yeye che non si vedeva da molto guardate che bello questo Topolino bellissimo, veramente, veramente bello e proseguiamo con un articolo appunto dedicato al Piccolo Principe e al suo autore e proseguiamo con questo prologo di Tito Faraci e i testi Enrico Faccini e i disegni ovvero i allegri mestieri di Paperino Corri Corriere qui vediamo su questo Topolino che Enrico Faccini la farà da padrone questa è la prima storia in cui compare come disegnatore però appunto con i testi di Tito Faraci lo vediamo alle prese con uno dei suoi innumerevoli mestieri in questo caso è Il Corriere storia non tanto breve neanche tanto lunga diciamo nella media molto ma molto soddisfacente e divertente proseguiamo con Marco Nucci e i testi e Sembra Enrico Faccini e i disegni Paperuga è il diabolico dottor Puff Puff anche questa storia strappa più di una risata nonostante è praticamente muta vediamo appunto Paperuga che si è lasciato condizionare troppo da un film che ha visto al cinema lo vedrà alle prese con la sua fantasia abbastanza elaborata davvero molto carina e poi abbiamo Zepo Verone e l'alta finanza per appunto questa saga economico-finanziare di Zepo Verone Zepo Verone è il pioniere del risparmio di Alessandro Sisti e i testi e di Vitale Mangiasorte e i disegni dove appunto ci sarà questo premio dato dal club dei miliardari e all'inizio Zepo Verone dovrebbe essere in carica cioè in gara però vedremo che ci saranno dei risvolti diversi dal solito che però alla fine vanno a sbattere sempre ai soliti finali per una volta avevamo Filos Ganga che sembrava stesse per per volare in alto e invece ci ritroveremo come al solito con i soliti finali peccato per me Scacco Matto a Topolino finalmente l'ultimo episodio non se ne poteva più o meno per quanto mi riguarda perché una storia che poteva benissimamente essere suddivisa in massimo due numeri l'hanno dilungata troppo e sinceramente a differenza degli episodi con Macchia Nera o anche il crossover dedicato al Terramingo questa storia diluita così tanto per me ha perso molto mordente Giovanni Di Gregorio e Testi e Ottavio Panaro ai disegni vedremo il concretizzarsi del tutto la chiusura delle indagini in maniera secondo me abbastanza anche banale e niente l'unica cosa bella di questa storia è Pippo che insomma se la cava con gli scacchi poi abbiamo un altro articolo di approfondimento sugli scacchi e appunto ragazzi il Topolino è giunto al termine vediamo in edicola questa settimana i classici Disney che ho già preso i grandi classici ancora no perché addirittura il numero 82 ho preso l'81 il Paper Fantasy che ho preso l'ultimo numero peccato Anzi Piperone che non prenderò e poi l'anteprima del prossimo Topolino 3491 con appunto Road to World Cup un patto tra gente uomini che sinceramente pure mi ha stufato perché è troppo dilungata Topolino è il tesoro del legionario che attendo con ansia Anzi Piperone i vichinghi a Venezia che pure mi ispira sarà una storia estera appunto con però Giorgio Cavazziani e disegni Paperoga è la casa del rumore che mi ispira altrettanto e poi l'episodio 2 di Topo Principe questo era il Topolino ragazzi poi abbiamo una chiusura sempre di Enrico Faccini con zucchevute lupus in fabula vediamo come Paperoga riesce a salvarsi in calcio d'angolo nonostante abbia brattato un muro e questo era il Topolino numero 3490 ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate scusatemi ancora se non sto facendo le mie classiche introduzioni ma mi viene molto comodo registrare così direttamente dal tablet col Topolino e mandarvi subito online il video quindi per quanto riguarda Topolino penso che proseguirò con questa strada tanto alla fine l'importante è scambiarci i nostri pareri e i nostri pensieri poi per vedere la mia brutta faccia ci penseranno gli altri video che avrò in programma con questo è tutto e ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti